Io direi di iniziare con un galleggiante, di solito quando peschiamo in acqua ferma con corrente molto leggera, un galleggiante del genere. Sotto andremo a creare subito la nostra spallinata. E poi disponiamo i pallini a decrescere, cioè man mano che si va verso la parte alta della lenza, questo qui va a tarare subito il galleggiante e poi il lavoro di sensibilità lo svolge la spallinata sotto. Abbiamo delle lenze già pronte, ce le portiamo già pronte da casa per guadagnare tempo e perché è una specie di rombo, questo perché ha una forma a rombo perché innanzitutto molto stretta perché innanzitutto quando lanciamo non fa grovigli, il filo non fa garbugli. che sono molto veloci, quando siamo in pesca non serve rifare tutta la lenza, soprattutto queste torpille intercambiabili hanno dei gommini. e che cosa fanno, questi diminuiscono l'attrito, quindi è come se mettessimo in pesca un galleggiante da un grammo perché in realtà è di un'adeguata, molto molto importante, di un'adeguata geometria di pallini sotto, la spallinata fa la differenza con i pallini disposti in maniera equidistante.